A velocilandia se abbiamo completato la prova a cronometro dobbiamo sfidare i biplani. Come prima ragazzi, attraversate gli anelli verdi. Per vincere la gara dovete seguire i puntini rossi e attraversare tutti gli anelli verdi. E c'è anche una bella sorpresa per voi. Se raccogliete quelle stelle rosse potete usare i proiettili e sparare a questi maledetti biplani. Purtroppo i biplani passano in quelle stelle blu e vanno super veloci. Non riesco a sorpassarli. E poi vi do un consiglio. Per guadagnare un trofeo voi dovete raccogliere le stelle rosse con le armi esplosive. Non riuscirò mai a vincere sta gara. Fatemi vincere maledetti biplani. Ma non potevano aumentare di più i giri. Invece è solo tre giri. Sono al secondo posto. Non mi piace essere al secondo posto e fare seconda posizione. No, così non riesco a vincere. Dov'è l'ultimo biplano da sorpassare? Il problema è che volo tutto storto. Mi sa che l'abbiamo perso. Io sono ancora molto indietro. Eccolo lì. Fermo, io voglio vincere. Andratti dalle scatole. Ha toccato la stella blu per andare veloce. Se riusciremo ad arrivare primi riceveremo un uovo di drago. Se no, no. E se hai visto alcune fate ci fanno le frecce. Sto per vincere la gara. E vai, ho vinto. Sono arrivato primo. E abbiamo ricevuto un uovo di drago. Sono un pilota con i fiocchi. Sono al primo posto. Il draghetto si chiama a sceme. No, è una draghetta, scusatemi. È una femmina. Vedo il fiocco. Arrivederci a tutti. Mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale.